Una decina di biciclette rubate sono state riconsegnate ai legittimi proprietari. Questo è stato possibile grazie alla segnalazione di un cittadino che ha comunicato ai carabinieri di Fanno alla presenza di tre persone sospette all'interno dei cappannoni dell'ex zuccherificio che stavano trasbordando dei sacchi neri per caricarli sul rimorchio, agganciato a sua volta a una monovolume rossa con targa rumena. I militari hanno raggiunto immediatamente il posto indicato ma dell'auto non c'era più traccia. Impossibile può individuare la targa in assenza di un sistema di videosorveglianza in città. Da un successivo sopralluogo effettuato all'interno dei cappannoni abbandonati i militari hanno ritrovato dentro questi sacchi alcune biciclette smontate nonché vari cerchioni e pneumatici. Si tratta della parte di refurtiva che malviventi non sono riusciti a caricare nel mezzo segnalato e che probabilmente sarebbe stata recuperata in un secondo momento. Da qui l'appello dei carabinieri che hanno diramato le foto dei veicoli ritrovati. Posti sotto sequestro dopo un primo confronto con le denunce sport è stato possibile restituirle ai proprietari. Come ricordato recentemente in una conferenza stampa delle forze dell'ordine è importante denunciare sempre i furti subiti e se possibile fotografare i propri oggetti per poi riuscire in questi casi a dimostrarne la proprietà.